aprile se ne sta andando e non sarà il mese delle decisioni ufficiali è stato un periodo di valutazioni che hanno preceduto la fase operativa a roma si susseguono gli incontri del presidente erbolino la di milan che si stanno confrontando anche con diversi operatori di mercato a gennaio la freddana si è fidata di persone che non hanno fatto gli interessi del club per cui ora ci si aspetta un cambio di rotta tanti sono i direttori sportivi che si proposti ma non tutti hanno i requisiti che serviranno per affrontare con slancio la prossima stagione da una parte bisognerà essere bravi ascolti le ranghi alleggerendo il monte in gaggi dall'altra non si trova sbagliare la scelta delle persone adatte in campo ed in panchina ieri volino potrebbe rompere il silenzio da più a qualche settimana specie se in tempi rapidi riuscisse a chiudere la trattativa per il nuovo di esse tra le questioni calde c'è il contenzioso con di a domani è in agenda il primo incontro al collegio arbitrale della lega la seretana ha chiesto di decurtare lo stipendio del calciatore ma parallelamente spera di trovare una soluzione definitiva sul mercato per chiudere l'ennesimo rapporto malato fra il calciatore la piazza ora c'è il gelo dopo i fasti della scorsa stagione e sicuramente anche le sue bizze hanno influito sull'annata sciagurata che si è vissuta memore di ciò la seretana dovrà individuare un dirigente di polso per evitare altri casi che possano turbare il gruppo